Dopo la fine del patto del Nazareno per gli imbrogli di Renzi, Renzi non ha più la maggioranza né alla Camera né al Senato, proprio per questo ha paura, vorrà mettere anche la fiducia articolo per articolo in aula, glielo impediremo ovviamente, chiederemo il voto segreto anche sul voto finale e faremo soprattutto un appello all'opinione pubblica, oltre che al Presidente della Repubblica, perché eviti questo scempio democratico. Il momento è molto difficile per la vita del nostro Paese, l'economia continua ad andare male, Renzi e Padoan sono degli irresponsabili che promettono mance ancora una volta per vincere le elezioni regionali come hanno fatto con gli 80 euro, il momento è drammatico per quello che sta succedendo a sud del Mediterraneo e in un momento così drammatico Renzi realizza una prova di forza abominevole, violentando il Parlamento ma violentando il suo stesso partito. Per noi, ripeto, è inaccettabile, ci rivolgeremo all'opinione pubblica, ci rivolgeremo al Capo dello Stato perché questa farsa non debba protrarsi oltre. Renzi è debolissimo, sta perdendo consensi tutti i giorni, il suo livello di fiducia è ai livelli minimi per un Presidente del Consiglio nelle sue condizioni e questo aumenta la sua arroganza. Basta, qualcuno gli dica di smettere perché tutte le sue azioni fanno male alla democrazia del nostro Paese. L'ultima chicca, dopo la deportazione sono entrati come sostituti almeno sei abusivi e cioè sei deputati del PD nominati grazie al premio di maggioranza dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Ecco, questa è una piccola particolarità, adesso se la fanno e se la suonano, se la cantano e se la suonano si arriverà in aula il 27 e lì le opposizioni faranno sentire tutta la loro voce, la loro forza e soprattutto la loro voglia di difendere la democrazia nel nostro Paese.